Siamo a mercoledì 13 gennaio, una cordiale buonasera, ben ritrovati a voi tutti e non da con voi. Lunedì abbiamo iniziato a stilare un primo bilancio per quanto riguarda il nostro turismo invernale. Oggi parleremo ancora di turismo ma con una visione un po' più ampia, ma non è tutto perché continuiamo a parlare di segni zodiacali con la nostra Sara e Cloris Sciaroni. Ma che ne dite, andiamo subito a presentare l'ospite che è qui con noi oggi, benvenuto, bentornato a Elia Frapolli. Ricordiamo, direttore di Ticino Turismo, bentornato. Grazie. Allora, parliamo di bilanci. Oggi è andato prima, abbiamo fatto un primo veloce bilancio lunedì scorso sul turismo di questo inverno. Chiedo anche a lei, com'è andato questo inverno con poca neve? Ma questo inizio d'inverno, questo Natale è andato decisamente male in Ticino. Il problema è la mancanza di neve, lo sappiamo, i nostri piccoli impianti pochi hanno la capacità di creare neve artificiale con i cannoni da neve ed ecco che numerosi di questi impianti addirittura non hanno neppure aperto i battenti. Speriamo che questa materia prima arrivi a breve. Che arrivi, ce l'auguriamo davvero tutti. Senta, tempo di bilanci questo. Facciamo un bilancio un po' più articolato per quanto riguarda il turismo in Ticino nel 2015. Che cosa possiamo dire? Quali sono gli elementi più salienti? Diciamo che il 2015 in Ticino ha cominciato con una problematica importante che ha toccato tutta la Svizzera in generale. Quindi l'abbandono del tasso di cambio fisso franco-euro che ci ha visto da un giorno all'altro diventare più cari rispetto ai nostri concorrenti nella zona euro. Quindi penso specialmente all'Italia, anche Grecia e altri paesi decisamente più cari. 20-30% in un solo giorno. Il che ci ha reso difficile essere competitivi su mercati per esempio come quello germanico dove vediamo il germanico oggi attraversa la Svizzera e si porta un po' più a sud. Quindi un anno piuttosto difficile. Senta, il direttore di Svizzera Turismo proprio l'altro giorno sulla Sontag Saitung ha detto che malgrado, tornando al discorso della neve, la poca neve, la stagione si è comunque salvata anche grazie a quanti in montagna hanno trascorso le vacanze nella loro casa di vacanza. Quanto le case secondarie anche per la nostra realtà, il nostro Ticino, hanno creato o creano indotto? Nel settore turistico in Ticino oltre all'albergheria abbiamo un'importante parte di case secondarie. Anzi in certe regioni del Ticino sono decisamente tante, superano a volte anche quasi il numero delle case primarie. E devo dire che queste a volte creano una compensazione con quel turismo che manca negli alberghi perché spesso sappiamo che chi ha la casa secondaria viene in vacanza, va in Ticino, anche se per esempio non abbiamo delle condizioni favorevoli. Può essere la mancanza di neve d'inverno ma magari anche il brutto tempo durante l'estate. Creano un indotto importante. Elia, di che segno è lei? Io il segno dei pesci. Il segno dei pesci. Allora, sai cosa facciamo? Adesso vedo già pronte la nostra Sara e Cloris Ciaroli. Benvenute, come state? Grazie Gianfranco, bene. Sì, benissimo. È bene. Andiamo avanti con io, mi sono perso, che segno avevamo. Che segno è? Lui pesci. Ai pesci. Mi sembra che è proprio l'ultimo di questa sera. Sarà giovedì. Sarà giovedì, sarà domani. Non ci azzecco mai molto. Allora, noi ringraziamo Gianfranco. Un saluto anche da parte mia. Certo, ritroviamo Cloris Ciaroli, la nostra astrologa. Lunedì, insomma, abbiamo cominciato questo viaggio per cercare di capire come sarà astrologicamente parlando questo 2016. E quindi oggi proseguiamo il nostro viaggio e lo facciamo appunto con tre nuovi segni. Ecco, e allora, ci hai detto, Cloris, che in generale questo anno bisestile sarà un po' un anno, se vogliamo, di transizione. Saranno mesi utili per costruire un futuro ottimista. Mettiamola così. Dobbiamo lavorarci. Allora, oggi partiamo dalla bilancia. E allora, è il segno, beh, lo sappiamo, è il simbolo della giustizia, è un po' un segno della collaborazione. Quali indicazioni possiamo dare ai nati sotto questo segno? È il segno che si trova a metà strada, nello zodiaco, quindi lo si definisce anche un mediatore. La bilancia è spesso un mediatore, è un diplomatico. In questo 2016 sarà un po' più intraprendente del solito. Parlavo di Marte all'inizio, no? Questo Marte in Scorpione che si divide fra Scorpione e Sagittario, che in qualche modo favorisce molto bene la bilancia, nel senso che gli dà un po' più di carica, un po' più di determinazione, perché la bilancia, si sa, è un po' titubante, un po' indecisa per natura, salvo che quando deve difendere una causa o qualcuno, allora può essere veramente molto determinata. Si sa, è il simbolo della giustizia, quindi ama l'equilibrio, ama l'equità e quando si appassiona qualcosa, e questo è possibile nel 2016, si porta avanti delle cose molto intelligenti, anche un segno sociale. Tu hai dato un consiglio in generale, appunto, tra ieri e lunedì, a tutti i segni, ovvero osate, perché appunto è un anno di passaggio, è un anno che serve ad arrivare pronti e carichi al 2017, guardiamo avanti, di 12 mesi. In questo senso allora la bilancia deve cercare di uscire un pochino anche lei dagli schemi? Deve uscire anche lei dagli schemi, ma soprattutto deve uscire e proporsi, deve autopromuoversi, perché spesso ha bisogno di una riete dietro che la spinge, o di un segno di fuoco, o qualcuno di più determinato che la spinga in avanti. L'unico problema è che, come tutti i segni cardinali, tra cui la bilancia è uno di questi, deve fare attenzione ancora a questo passaggio, lungo passaggio, più che passaggio è una dissonanza, noi la definiamo, tra Urano in Ariete e Plutone in Capricorno, che sono altri due segni cardinali. Lei sta nel mezzo, quindi si deve giostrare molto con una certa fatica fra queste energie, e quindi quelli della seconda decada avranno ancora qualche problemino. Però posso dire una cosa, il bello della bilancia arriva in autunno, quando Giove entrerà nel segno. Allora veramente, io penso ci sarà un po' più di pace. Festeggeranno il compleanno, il colore da portare è il verde, la pietra porta fortuna è il quarzo rosa, il metallo, l'argento e il rame, il giorno favorevole è il venerdì, e tra i personaggi famosi nati sotto questo segno abbiamo John Lennon, giovanotti, che sarà, sa, mitico John Lennon, ma anche giovanotti, che sarà sabato proprio alla Resiga per un concerto, Oscar Wilde e Italo Calvino. Detto questo, caro Gianfranco, ti ripassiamo la parola. Grazie mille, fra pochissimo. Elia Frapolli, la prossima settimana, il 21 gennaio, ci sarà la caduta dell'ultimo diaframma, della galleria di base del Ceneri. Ne parleremo tra l'altro qui in onda con voi, naturalmente. Tra poco, insomma, a giugno verrà inaugurata ufficialmente la galleria di base del San Gottardo. Ecco, la domanda è questa. Alp Transit, quanto, secondo lei, aiuterà ad incentivare il nostro turismo? Beh, Alp Transit, con l'apertura di questo nuovo tunnel, rappresenta un'opportunità enorme per il Ticino. Però è pur vero che le opportunità vanno colte. Non è la semplice apertura di un nuovo tunnel che porterà qui così, miracolosamente, nuove migliaia di turisti. Dobbiamo riuscire a creare quelle attività, quelle esperienze turistiche giuste, per far sì che il nostro turista ci raggiunge. Sarà più facile raggiungerci in treno, ma dobbiamo anche avere un'offerta di qualità. L'abbiamo, ma c'è ancora da lavorare. Ecco, proprio la domanda che, insomma, sorge spontanea, che avevo pensato di porle, se siamo pronti giustamente a sfruttare questo potenziale. Il potenziale si sfrutta anche attraverso le infrastrutture, no? Si sfrutta anche attraverso l'accoglienza. Ecco, come siamo messi da questo punto di vista? Iniziamo dal discorso delle infrastrutture. Ci si sta muovendo. È da diversi anni che il Ticino turistico sta, per certi versi, cambiando pelle. Le infrastrutture lo vediamo. Pensiamo solamente alle stazioni principali, dove il turista ci raggiungerà. Bellinzona, Lugano, Locarno, stanno tutte evolvendo, cambiando. Abbiamo delle nuove infrastrutture d'accoglienza. Penso a Splash & Spa, il Lido di Locarno. Abbiamo alberghi che stanno aprendo, alberghi che hanno rinnovato. Questo turismo sta cambiando pelle lentamente. È vero, però, che questo processo non può fermarsi. È ancora lungo e deve continuare negli anni. Senti, in merito alla polemica che ha suscitato l'articolo del Blick qualche tempo fa, poco tempo fa, che dipingeva il Ticino, insomma, per dirla brevemente, poco ospitale, la domanda che le faccio è questa. Quanto è importante, anche per il vostro settore, a prescindere, saper fare autocritica? È importantissimo. L'accoglienza è la chiave del turismo. Tutti sappiamo che quando andiamo in vacanza vogliamo bene o male essere accolti in modo positivo. Ora, il Blick in questo articolo era estremamente negativo, citava degli esempi negativi. Ce ne sono tanti. È però anche importante ricordare che in Ticino abbiamo esempi positivi. Abbiamo alcuni tra i migliori alberghi della Svizzera, ristoranti veramente eccellenti. Abbiamo anche una popolazione che sa essere accogliente. L'importante è continuare a lavorare su questo tema. Come sempre, c'è un verso della medaglia, ma anche l'altro. Dobbiamo ancora lavorarci. Gli oroscopi li segue? Di tanto in tanto. Con certa curiosità e anche scetticismo. Allora, continuiamo ad ascoltare Sara e Cloris. Grazie. Beh, certo. Ma siamo un po' tutti così. Prendiamo il buono e cerchiamo, insomma, di far tesoro dei consigli. E quanto ci viene detto di meno buono, tendiamo a pensare, ma tanto non è vero. Insomma, comunque noi siamo al segno dello scorpione. Ecco, sarà per i nati sotto questo segno l'anno della svolta? Io direi che è un segno che può avvantaggiarsi di questi passaggi planetari belli e potenti. Questo Marte in scorpione, insomma, si sa che lo scorpione è una forza della natura. Noi stiamo parlando da lunedì, eh. È una forza della natura. Poi lui, appoggiato da Plutone, per lui questo Plutone lo rende ancora più ambizioso, più forte in qualche modo. L'unica cosa che dovrebbe fare, perché ama il potere. Soprattutto il potere è dominare. Allora, se riesci a trovare questo equilibrio fra questa sua grande forza, grande energia che ha dentro, perché lui ha anche la facoltà di riuscire a passare attraverso passaggi molto difficili per poi risalire da un'altra parte tranquillamente. Si dice che è il segno che ti porta all'inferno, no? Quindi le sfide più grosse, lo scorpione sa che cosa sono. Simba la scelta non a caso, ecco. Eh, no, è proprio un segno particolare. Però in questo anno è veramente spinto a, diciamo, possibilmente non a usare la sua aggressività in modo negativo, perché di forza ne ha e di energia ne ha, e di essere un po' meno manipolatorio, no? Quando vuole convincere qualcuno e trascinare qualcuno verso la sua strada, verso quello che lui vuole raggiungere, no? Ecco, deve stare attento a non prevaricare. Sarà particolarmente, è già passionale di suo, quindi si sa che in amore è il segno più erotico anche, no? Allora, se riesci a unire anche l'aspetto spirituale di Nettuno a questa forza materiale che lui ha, diventa un personaggio interessante. Allora, per dire due cose su questo personaggio interessante, possiamo dire, cara Cloris, che il colore da portare, ecco, parliamo del segno dello scorpione, è il viola che aiuta nella meditazione, ecco, visto che hai detto che ha un po' calma. Ecco, è già un carnale, insomma, lo aiutiamo a calmarsi un po'. La pietra porta fortuna, il rubino, il metallo, il ferro, il giorno favorevole, il martedì. I personaggi storici abbiamo Marie Curie, Pablo Picasso, Monet, Grace Kelly. Grandi scienziati. Robert Kennedy e Voltaire, insomma. Ma hai visto, ti sei proprio, eh? Tante curiosità hai trovato. Hai visto. Incredibile la nostra Sara. Allora, e lì, abbiamo iniziato parlando di un bilancio, un breve bilancio di quello che è stato il 2015. Adesso le chiedo magari qualche cosa che state programmando, preparando per il 2016. Sì, il 16 anche per il turismo è un anno di transizione, è un anno di cambiamenti. Si sta lavorando su recuperare alcuni nostri mercati che abbiamo un pochino perso negli anni scorsi. In particolare la presenza sul mercato svizzero. Saremo presenti, proprio parlando di Alp Transit, Alp Transit al Museo dei Trasporti per tutta l'estate con un'esposizione che parlerà solo di Ticino, Ticino più raggiungibile con Alp Transit. Ma penso anche al mercato germanico, mercato non facile, dove però riusciamo a profilarci ospitando la squadra di calcio che si preparerà per gli europei, sarà proprio da Ascona. Ah, questo è veramente una chicca. È una cosa, insomma, importante. Io direi, perché il tempo corre davvero veloce, di ascoltare ancora Sara e Cloris per l'ultimo segno e poi concludiamo. Bene, allora, siamo arrivati all'ultimo segno di oggi, diciamo questo Cloris, perché domani chiuderemo il cerchio dello Zodiaco raccontando gli ultimi tre segni. E allora, oggi terminiamo con il Sagittario. Ecco, le stelle sostengono l'ottimismo tipico di questo segno, dei nati sotto il Sagittario. Sì, assolutamente. Il Sagittario è un grande ottimista, ma è anche un grande filosofo. Lui sa prendere la vita con gran filosofia, no? È quello che riesce anche a sdrammatizzare, è quello che anche nelle situazioni più difficili si sa destreggiare abbastanza bene. A parte che c'è una parte che ama fuggire a volte, è quello dei lunghi viaggi, è quello dei grandi sogni, dei grandi ideali. Beh, è un filosofo, serve anche questo. Eh beh, sì, è anche un sognatore. Allora, Marte in Scorpione, nella prima parte lo aiuta ad essere anche un po' più concreto per certi versi. È ottimo lo sport, se praticano dello sport possono anche avere abbastanza successo. Loro, se prima, non ho parlato di Saturno, ma è importante dirlo, nei due anni precedenti diciamo che ha bersagliato un po' lo Scorpione, quindi lo Scorpione esce fuori da queste sfide difficili e adesso tocca al Sagittario. Ha mollato lo Scorpione e si la piglia col Sagittario. Allora, però Saturno in Sagittario non è così drammatico come quando è in Scorpione, quindi deve diventare anche più concreto. Se ha degli obiettivi, degli ideali, è anche un segno umanitario che li concretizzi, che li metta frutto, che si metta con qualcuno, che cooperi con altre persone, perché più sono e più forti sono anche loro, no? Devono solo stare attenti all'eclissi di marzo. I primi dieci giorni di marzo sono un po' così. Poi c'è da dire che Marte passa nel loro segno, quindi ci sarà una specie di bilancio che dovranno fare. Molti dovranno fare, molti Sagittari, anche che hanno superato la quarantina, la cinquantina, dovranno fare un po' un bilancio della loro vita e magari vedere se continuare per quella strada o cambiarla. È molto interessante, allora, Cloris, colore da portare per questi Sagittari che saranno un pochino bersagliati, dovranno stare un po' attenti, è l'azzurro, colore che vivacizza l'intelligenza, dicono, la pietra, porta fortuna, il turchese, il metallo, lo stagno, il giorno favorevole, il giovedì, e i personaggi famosi nati sotto questo segno sono Winston Churchill, Walt Disney, anche lui è un filosofo, voglio dire, ha creato la filosofia... Ha fatto sognare, quanti bambini. Certo, del fumetto, Emily Dickinson, anche lei è una grande, Nerone, avremmo da dire, e Ludwig van Beethoven, ecco. Questi sono i personaggi del segno del Sagittario, domani continueremo, caro Gianfranco, domani saremo ancora qua. Assolutamente sì, domani è lì a Frappolli per il segno dei pesci, giusto? Domani, quindi ci segua anche lei domani sera. intanto grazie mille per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie naturalmente anche alla nostra Sara Bellini e Cloris Sciaroni, che abbiamo detto ci rivediamo domani sera, e grazie naturalmente anche voi che ci seguite da casa. Per questa sera è davvero tutto. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Grazie a tutti.